Dura a fondo del coordinatore di Per un nuovo inizio, Vincenzo Inverso, dopo l'ennesimo crollo avvenuto all'interno dei capannoni dell'ex tabacchificio ATI. Nel mirino di Inverso è blocco al progetto di riqualificazione della struttura, improntato molti anni fa e la mancanza di tutela da parte della soprintendenza nonostante il vincolo vigente. Io sono arrabbiato, incazzato, indignato come politico, come cittadino e come presidente dell'ex sub attipaglia sviluppo SPA per quello che sta accadendo alla struttura dell'ex tabacchificio. Lo vedete tutti, una struttura che sta venendo giù a pezzi, è crollato l'intera volta di un capannone che rappresenta un'archeologia industriale unica, forse nel suo genere. E noi continuiamo, voglio dire, nell'immobilismo più totale di questa amministrazione fallimentare che non fa niente. Io sono arrabbiato, indignato e incazzato anche con la sovraintendenza, che vincola questo bene e non lo tutela. Stamattina ho allertato tutta la deputazione, basta il silenzio che è calato su battipaglia, bisogna intervenire perché questa città sta sprofondando nelle sue macerie più dolorose e più amare. Che cosa è successo nello specifico? Nello specifico è successo che l'intera copertura, come vedete, di questa parte dell'ex tabacchificio, che è una parte importante, è una parte tutelata dalla sovraintendenza. Perché quando noi, come battipaglia sviluppo SPA, ben oltre dieci anni fa, abbiamo immaginato una riqualificazione di quest'ambito, immaginando di far nascere qui dentro il nuovo centro direzionale della provincia di Salerno, che non solo riqualificava e non faceva cadere quello che oggi sta cadendo a pezzo, ma dava i posti di lavoro, insediava delle nuove imprese, dava la possibilità a battipaglia di avere un cinema, un teatro, una piazza, dei servizi. Avevamo addirittura previsto un grattacielo direzionale quando, non me ne voglia il governatore De Luca, a Salerno ancora non esistevano e non si parlava di schiline e di grattacieli. Avevamo fatto di tutto e di più e i signori del no di questa città ci hanno bloccati e ci hanno bloccati proponendo e controponendo alla nostra proposta il nulla, il degrado, il decadimento. Ed oggi questa struttura cade a pezzi, guardate, fa davvero male al cuore per chi vuole bene e tiene questa città come noi. Voglio che tutti i cittadini di battipaglia sappiano e una volta per tutte in modo chiaro e puntuale e preciso che dire no al progetto della battipaglia sviluppo SPA che riqualificava quell'ambito ha significato, voglio dire, vanificare il lavoro di un gruppo di uomini e di donne attaccati a questa città che aveva adiempiuto ad un obbligo di una convenzione, aveva fatto nei modi e nei termini previsti dalla convenzione tutto quello che c'era da fare. Un progetto approvato non dai sindaci ma dai commissari che si sono succeduti, pubblicato in gazzetta ufficiale, finanziato e che il comune di battipaglia non ha avuto il coraggio di portare a termine compiendo gli atti che erano di competenza del comune. Questa storia grida vendetta, oggi la battipaglia sviluppa una società in liquidazione, non la chiudono perpretando non solo uno spreco ma perpretando l'ennesimo fallimento e il decadimento di un'area che doveva essere invece quella da cui battipaglia doveva ripartire e rilanciarsi. Per le nuove generazioni, per lo sviluppo del territorio e per le occupazioni che oggi manca in questa città e di cui tutti quanti quotidianamente ci ammantiamo la bocca ma in realtà non facciamo nulla per trovare delle soluzioni reali. E questa è una di quelle. Lancia un appello all'amministrazione in questo senso? Io sto lanciando appelli all'amministrazione tutti i giorni a partire dalla pista ciclabile, biking e running alle quali non rispondono a finire all'area delle exati che continua a cadere a pezzi affinché intervengano, intervengano. Bisogna amministrare questa città facendo delle opere straordinarie. Diceva Napoleone ci vuole più coraggio ad amministrare che a fare le guerre. La sindaca o dimostri di avere coraggio oppure lasci perdere e passi la mano a chi ha più forza, più idee, più determinazione e più coraggio di lei. Battipaglia non merita tutto questo. E l'appello va all'intero Consiglio Comunale di maggioranza e d'opposizione. Perché su questo non ci sono schieramenti, non ci sono divisioni ideologiche, c'è la città prima di tutto. C'è un appiattimento totale. Guardate, bisogna immediatamente mettere mano dalla crisi tre e o franna a tutto quello che accade quotidianamente. E il crollo di questo tabacchificio è il simbolo del fallimento di questa amministrazione.